E' arrivata nel turno infrasettimanale la quinta vittoria in sei gare consecutive. Contro la Triestina l'Albino Leff ha dimostrato ancora una volta di essere squadra, ma non solo. Fisicamente stiamo bene, in questo momento è importante a livello fisico, visto che ci sono le tre partite avvicinate, avere una squadra pronta fisicamente è importante. E' logico che gli obiettivi possono cambiare se continuiamo con questa mentalità, se pensiamo che abbiamo raggiunto qualcosa e molliamo un attimo, anche perché quando siamo partiti, oggi la partita mi dava la sensazione che sembrava quella di Pisa. Proprio un po' lenti nel costruire l'azione, stavamo un po' troppo dietro, loro ci aspettavano e siamo andati in difficoltà. Invece abbiamo avuto un cambio di ritmo, specialmente nel secondo tempo, dove siamo riusciti a schiacciarli un po' lì, correvamo meno, eravamo molto alti e ci sono capitate le occasioni da gol. Un albinoleffe che nelle ultime gare è riuscito a costruire molte più occasioni da gol rispetto alla prima fase del campionato. Probabilmente è un po' di convinzione, è logico che un paio di partite vinte, la posizione in classifica, ti porta a questa autostima che abbiamo sempre parlato, questa convinzione anche nel gruppo dei ragazzi che stanno giocando magari titolari solo da quest'anno, questa convinzione, e ti porta a rischiare qualche giocata in più, a rischiare qualche palla in più, arriviamo in un gol un po' con tutti, perciò questo è importante.